Allora, mister Cusano, purtroppo il risultato non ha riso alla Sarnese, forse meritavamo di più visto l'andamento della gara. Sì, effettivamente credo che non abbiamo assolutamente demeritato di fronte a un avversario con valori tecnici importanti. Peccato per la palla inattiva del secondo tempo, che è stata l'unica conclusione che abbiamo subito. Abbiamo reagito, abbiamo provato a sfondare il muro avversario, un paio di palle filtranti non hanno raggiunto i nostri giocatori che si erano proposti in attacco. Peccato, ci rifaremo sicuramente. Mister, arriva uno stop dopo una serie positiva, la classifica è molto corta, insomma domenica si gioca a Picerno, che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo una gara che noi giocheremo come al solito a viso aperto, con le nostre forze, con le nostre energie. Oggi abbiamo subito un gol su una palla inattiva, ripeto, abbiamo subito pochissime iniziative avversarie. Ci giocheremo la partita con il Picerno, dove siamo convinti di fare bella figura. Ci giocheremo la partita con il Picerno.